Non si fa mai la telefonata classica del tipo Buongiorno, sono Eomare Rossi, la chiamo per il prodotto ABC. Non si fa. Come fissare appuntamenti in maniera facile e veloce con le telefonate a freddo senza subire lo stress delle telefonate a freddo, senza risultare antipatici e soprattutto senza fare fatica. Prima cosa, non si fa mai la telefonata classica del tipo Buongiorno, sono Eomare Rossi, la chiamo per il prodotto ABC. Non si fa. Non si fa. Perché, primo, è una telefonata dove tu stai spingendo il cliente gli stai offrendo il tuo prodotto e soprattutto lo stai facendo in maniera aggressiva. Ricorda, le persone amano comprare ma non vogliono che gli si offra. E quando tu chiami, sei un estraneo, e gli proponi subito il prodotto o quello per cui tu vuoi chiamare e fissare l'appuntamento o realizzare la vendita dall'altra parte la persona alza le difese istintivamente perché, primo, hai un modo di fare che è sbagliato, gli stai proponendo qualcosa. Secondo, è sicuramente un problema di tonalità. Allora, cosa fare per risolvere questo? Prima cosa, non si parla mai del prodotto. Piuttosto, il modo corretto per gestire una telefonata per fissare l'appuntamento è dire buongiorno e usare questa frase. Forse può aiutarmi. Questa è la frase che ti permette di aprire il dialogo. Buongiorno, sono Mario Rossi. Forse può aiutarmi. Boom! Improvvisamente dall'altra parte la persona non si sente pressata da una vendita. bensì istintivamente si apre perché c'è qualcuno che chiede aiuto. E noi istintivamente, come esseri umani, cosa facciamo? Tendiamo a dare aiuto. Vogliamo aiutare aiuto. Vogliamo dare aiuto alle persone. Vogliamo prestare aiuto agli altri, no? E quindi, quale sarà la risposta istintiva di chi ti risponde? Ti dirà se posso oppure volentieri mi dica. E qui viene il passaggio finale. Noi non parliamo del prodotto perché se tu parlassi del prodotto cominci di nuovo a proporre qualcosa ma parliamo del problema. Cioè, il tuo prodotto o servizio risolve un problema quello che devi fare è chiedere se stanno avendo questo problema. Qualsiasi esso sia, quello che dovrai fare sarà buongiorno, sono Mario Rossi, forse puoi aiutarmi. Punto. Aspetti che ti risponda, ti dirà volentieri, mi dica se posso. Ok, probabilmente voi state affrontando un problema di questo tipo oppure vi è mai capitato di affrontare questo problema oppure ha mai sentito o conosciuto qualcuno che ha riscontrato questo problema dall'altra parte la persona dirà beh sì, o lo stiamo affrontando oppure sì, è una cosa di cui ci stiamo preoccupando oppure sì, abbiamo già conosciuto qualcuno e ci stiamo preoccupando che potrebbe capitare anche a noi a quel punto, tac, gli dici ok, guardi, io mi occupo di questo possiamo fissarci un appuntamento? Ed è fatta. Questo è il modo strategico più efficace per fare zero fatica nelle telefonate a freddo perché le persone ti accolgono e seconda cosa, fissare appuntamenti in maniera molto molto facile. È chiaro che non basta usare la frase forse puoi aiutarmi la frase vale per il 5% il 95% della differenza quale sarà? Sarà dato dalla tonalità perché se tu spingi verso l'alto dicendo forse puoi aiutarmi da un'altra parte c'è una istintiva regressione perché il tono della voce nel nostro tronco cerebrale cosa porta? Porta ad una chiusura invece se noi abbassiamo il tono forse può aiutarmi dai sicurezza esprimi sicurezza in quello che stai facendo e di conseguenza dall'altra parte ci sarà la tendenza ad aprirsi e a dire volentieri mi dica o se posso sono qui Allora come vedi un piccolo accorgimento ti permette di fare la grande differenza nelle telefonate puoi approvarlo e puoi commentare qui sotto com'è andata è chiaro che è completamente diverso dal sistema di vendita tradizionale dove sentiamo i call center che ci chiamano ci rompono le scatole per non dire peggio perché hanno sempre lo stesso format è un format che non funziona al punto che stanno mettendo delle registrazioni perché le persone non resistono a fare le telefonate a freddo in questo modo è distruttivo nessuno resiste quanto diverso è saper fare queste cose quanto migliore è poter chiudere trattative di vendita con queste competenze perché chiaramente dopo l'appuntamento servono delle competenze nell'ambito vendita ti piacerebbe saperne di più su come si può diventare dei bravi venditori negoziatori professionisti di veri e propri closer che sono in grado di gestire il cliente la trattativa in maniera professionale e chiudere a qualsiasi cifra se sei interessato troverai un link nella mia pagina o sopra o sotto a seconda di dove stai guardando questo video dove puoi partecipare ad un webinar e ti mostro come poter diventare un closer professionista se invece desideri conoscere maggiori contenuti quindi essere aggiornato sui contenuti che condivido e conoscere altre tecniche di vendita professionale non devi fare altro che cliccare mi piace su questo video e iscriviti al mio canale e seguirmi e iscriviti al canale